Allora, questa è la palette 88 colori ultra shimmer della Zoeva, si trova all'interno di questa scatolina, ha una copertina completamente lucida con la scritta Zoeva davanti e dietro ci stanno scritti l'inghiera e denti e la data di scadenza che è 24 mesi, quindi 2 anni. È molto importante sapere ciò perché molte ragazze si sono lamentate della grandezza di questa palettina, infatti è grande quanto un quadernino piccolo, vedete? Poi comunque la lunghezza e l'altezza ve le scrivo con precisione nel box a fianco al video. Quindi praticamente la data di scadenza è relativamente buona perché per consumare una palette 2 anni vanno più che bene in modo tale che non buttiate il prodotto. Allora, apriamo la nostra palettina e ci sta lo specchio, i due applicatori erano ai lati che io ho levato e una patina trasparente per proteggere gli ombretti. Come tutti sanno, questi ombretti sono grandi quanto una monetina da un centesimo, quindi le cialdine sono quanto una monetina da un centesimo. Adesso volevo mostrarvi prima un po' di swatches, dei colori che preferisco. Quindi, questo argentato è bellissimo, poi sfumato è ancora meglio. Questo fucsia, è stupendo, poi mi piace molto anche questo bronzo dorato. Non so se si riesce bene a vedere, eccolo. E poi comunque anche tutti gli altri sono molto belli e soprattutto sono molto pigmentati. E adesso sto facendo questo filmato ad alta qualità per farvi vedere i colori. Perché in molti video appaiono i colori che sono praticamente grigi, le ultime tre file, ovvero queste qua, appaiono grigi nei filmati. Queste qui, io non capisco perché appaiono grigi comunque. Adesso ve li faccio vedere tutti in alta qualità, così vedete come sono i colori. e vi muovo anche un pochino la palette, così vedete che alcuni sono molto, molto più ultra shimmer di altri. Dipende proprio dal colore. Adesso vedrete anche, ecco, questa cialdina che ci ha affondato l'unghia tempo fa. È una palette veramente meravigliosa, io ve la consiglio a tutte. Eccola qui, è quasi finita. Questa è l'ultima fila. Almeno in questo video non si vedono le ultime tre file grigie. E nulla. Questo è tutto. Al prossimo video. Ciao!